Il team di SensDat qualifica le proprie competenze grazie all'expertise uniche e diversificate, con competenze dell'area clinica, data science e cloud, imprenditoriali e con advisor del mondo della ricerca clinica. Giovanni Gentile, fondatore CEO, mi occupo della parte amministrativa della gestione dei progetti di ricerca e sviluppo. Roberto Dimitri, fondatrice CSO, si occupa dello studio degli aspetti di rilevanza scientifica, della parte di comunicazione e del customer development. Claudio Manca, fondatore CFO, è responsabile della gestione finanziaria, del controllo di gestione e dello sviluppo commerciale. Alberto Luzzon, fondatore CTO, gestisce la parte di data analytics e dello sviluppo del machine learning e dell'implementazione tecnica del servizio di analisi. Michele Gataudella, CEO, è responsabile dell'infrastruttura e degli applicativi cloud. Il team si avvale del prezioso board di advisor, tra cui figurano Tommaso Leonardi, direttore Europa di MGH C10i, e Marco Somi, psichiatra e ricercatore presso l'universitale di studi di Padova.